L'appuntamento prosegue, prosegue con Car Forward. Io mi trovo in corso Siracusa 33, angolo via Monfalcone e naturalmente il mio benvenuto va a lui, Paolo Boccardo. Ciao. Ciao a tutti. Una vasta esposizione di auto e di moto nuove usate chilometro zero su due piani, tantissimo prodotto a vostra completa disposizione a dei prezzi competitivi, ma io partirei subito col ringraziare i tuoi clienti per l'affluenza di pubblico e per le numerose recensioni, in fondo il vostro orgoglio e la loro soddisfazione. Assolutamente, grazie mille. Ci lasciate sempre delle recensioni che ci colpiscono al cuore, grazie. Qualità e prezzi competitivi, dicevamo, grazie all'eco bonus. Assolutamente, sulle moto a due ruote, ma anche sulle vetture. Allora non perdiamo altro tempo e andiamo a scoprire le chicche della puntata. 500 ibride usate, aziendali del 2021 o chilometri zero. Prezzi a partire da 11.500 euro, ma soprattutto i chilometri zero a partire da 13.950 euro. Panda, chilometri zero, ibride, ma non solo, anche le 4x4 e le ibride in allestimento normale o cross. Prezzi a partire da 10.950 euro. Jeep Avenger 1.2 benzina a 100 cavalli, chilometri zero, in allestimenti Altitude Summit, Full Optional. Prezzi a partire da 23.950 euro. Tutto in pronta consegna. Fiat 500X, mille benzina a 120 cavalli, chilometri zero, a soli 20.950, full optional. Peugeot 2008, aziendali, da 7.000 a 15.000 chilometri. Prezzi a partire da 17.950 euro. Opel Mokka, chilometro zero, 1.2 benzina, cambio manuale o cambio automatico, Full Optional. Prezzi a partire da soli 22.950 euro. Tutto in pronta consegna. Buongiorno a tutti, io sono Andrea, vi presento anche le nostre vetture d'occasione, come queste bellissime 208, aziendali, da 15.000 a 20.000 chilometri, anche per neopatentati, a partire da 14.950. Abbiamo anche un vasto assortimento di Citroën C3, 1.2 benzina, anche qui con pochissimi chilometri, da 15.000 a 20.000 chilometri, a partire da 12.950. Incredibile occasione anche sulle Dacia Sandero Stepway, chilometri zero, turbo GPL, a partire da soli 18.950 in vari allestimenti. E anche se fa ancora freddo, sta arrivando la bella stagione, quindi vi presento la chilometri zero, 500, dolce vita, cabrio, a soli 16.950. E siamo in chiusure, vi ricordo che CarForward è anche concessionario ufficiale Super Soco e V-Moto, naturalmente non solo due ruote, ma anche quattro ruote, che quattro ruote, ricordiamo Paolo. Assolutamente, chilometri zero e usati aziendali a vostra disposizione. Maggiori delucidazioni naturalmente sul sito che noi ricordiamo. www.c4wauto.com Io ringrazio Andrea, ringrazio Paolo, l'appuntamento per tutti voi è qui in Corso Siracusa 33, angolo via Monfalcone, naturalmente da CarForward. Ciao!